Dei amici del basket con Tommaso Fantoni. Tommaso, una brutta partita da cancellare subito e ripartire per la prossima partita? Assolutamente sì, la prossima partita è molto difficile come questa, bisogna resettare tutto quello che è successo in settimana, roba nuova, non c'è problema di un cazzo, bisogna abbassare la testa e lavorare come Dio comanda. Il gruppo c'è, il gruppo ha voglia, vediamo di sbloccarsi un attimo, di levarci questa scimmia dalle spalle per poi ripartire con il nostro campionato. Adesso l'unico rimedio è la palestra? Assolutamente sì.